le è capitato di sentire che qui al cimitero centrale qualcuno porta via fiori l'ho sempre sentito di sempre sempre più li metti belli e più te li rubano specialmente chi fessi quelli fin si ha capito ci sono belli da comperare meglio non comprarli appena uno li mette qualcuno e c'è chi c'è li ha presi ogni tanto si becca qualcuno spiacevole come cosa uno viene in questo posto eppure c'è chi è che c'ha quella mania lì è capitato di sentire di furti sulle tombe di fiori anche recentemente però nel mio caso no no però da altri è successo anche nelle cose piccine cosa portano via assolutamente a me mi hanno preso il coso l'omicino l'omicino con la batteria anni addietro sì sì anche nella mia tomba del mio figlio hanno preso delle rose e purtroppo insomma succede succede ultimamente invece no ma è da da una vita che è una vita così che brutta abitudine no è è uno schifo perché vai a prendere cose da chi non si può difendere cosa vi dicono che si ci rimangono male mangano male si fa rabbia perché ci si rimane male sembra che è proprio una mancanza di rispetto e devo dire che questa cosa non è dei giovani queste sono persone grandi e se sono grandi che non hanno rispetto non possono pretendere che dopo ce l'hanno i giovani l'è capitato di sentire che portano via fiori materiale dalle tombe qui nel cimicero speriamo di no io sono di tavernelline che a lei non è capitato recentemente qui da noi dove seppolti i nonni bisnonni miei no però però si sente che la gente qualche volta dice che che portano via i fiori cosa comunque succede anche essere un garina né che solo qui si è un abitudine affossombrone no è sono cose brutte perché cosa ci fanno quei fiori rubati su una tomba che significato già di rimettere su un'altra tomba esatto cioè non c'è nessun è meglio che sta senza guarda qua quel coso lì è una cosa bruttissima che succede ma ma non solo qui a fanno e dappertutto